Salve a tutti, sono MicWeb e sono qui di nuovo per un nuovo tutorial di Wordpress. Oggi vi voglio mostrare qualcosa di particolare, un'app che ci permetterà di pubblicare foto attraverso il nostro cellulare automaticamente. L'app in questione si chiama EFTTT, scusate il mio inglese, in inglese sarebbe IfDentistate. Quando succede questo fai una particolare azione. Questa applicazione si può scaricare gratuitamente da Google Play Store e l'applicazione è anche per i dispositivi iPhone, quindi su iTunes Store se questa applicazione è gratuita si può installare sia per il cellulare Android e il cellulare iPhone. Bando alle ciance, incominciamo, andiamo sul sito, il sito lo linkerò sulla descrizione, il sito è ifttt.com, dovete registrarvi, io ho già un account, mi logo, qui come vedete ci sono vari esempi, questa applicazione va molto di moda, viene continuamente ampliata, comunque adesso andiamo per il nostro esempio, cosa ci serve a noi? Ci andiamo a prendere il canale, in questo caso si dicono ingredienti canali, il canale di WordPress, dobbiamo connettere l'applicazione con il nostro sito internet, andiamo a connetterla, cosa ci serve qui? Ci serve il nome del sito, l'indirizzo del nostro blog, nel mio caso tutorial.micweb.info, qui per loggarci dobbiamo mettere i dati di accesso del nostro blog, siccome io la passo te l'ho dimenticata, non riuscirò a loggarmi, avrei potuto anche tagliare sto pezzo però vi faccio vedere, non vi preoccupate, ce la farò a loggarmi, come vi dicevo, se non riuscite a loggarmi è perché sbagliate i dati di accesso come me, purtroppo ho così tante password e ogni volta mi dimentico quale sia la password giusta, scusate, vediamo, questa è la volta buona, esatto, finalmente mi sono loggato, ok, cosa ho fatto? Adesso ho connesso il canale di WordPress con questa applicazione, ho connesso il mio sito, con questa applicazione, l'applicazione si chiama EFTTT, con 3T, in inglese non la pronuncio perché il mio inglese è disastroso, come vedete qui ci sono alcuni esempi, si può pubblicare con WordPress attraverso YouTube, attraverso Gmail, Twitter, Instagram, YouTube, insomma è un'applicazione molto interessante, qui sono alcune ricette che ho già fatto, pubblico automaticamente su Facebook quando ricevo un feed, eccetera, 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 questo ok, andiamo al nostro caso specifico, cosa succede? se scatto una foto con il mio cellulare, ecco qui, come vi faccio vedere anche le ulteriori opzioni, come vedete ci sono molte applicazioni, molti ingredienti, molto interessante appunto YouTube, tutti i social, Pinterest, insomma, questa applicazione è molto interessante e ogni mese direi si aggiunge un'applicazione sempre di più, insomma, bando alle ciance, torniamo alla nostra applicazione, appunto, ogni volta che cosa succede alla mia camera, del mio telefono Samsung, scatta una foto, posso anche aggiungere uno screenshot, ma nel caso ogni volta che scatto una foto, cosa deve succedere? aggiungo un'azione, in questo caso un'azione di WordPress, abbiamo prima collegato il canale l'ingrediente WordPress, clicco WordPress, cosa succede ogni volta che faccio una foto? voglio creare un post, un articolo di WordPress, come in questo caso, ok, mi scelgo questo, qui posso digitare l'articolo, il titolo dell'articolo, questa è solo un test, qui posso modificare anche come deve essere visto l'articolo, la categoria, con il link, le tags, posso definire anche delle tags, ho creato l'azione, non dimenticati, dopo aver creato l'azione di creare la ricetta, insomma, ecco, a questo punto abbiamo fatto tutto, adesso vado a tirare fuori il mio telefono dalle tasche, che non lo trovo mai, faccio una foto del mio iMac, per fare un esempio, questa applicazione la trovo molto interessante se siete fuori a un evento o una fiera e volete postare immediatamente le foto di un nuovo prodotto, di un nuovo telefono, se fate delle recensioni potete già mostrare ai vostri utenti le foto in anteprima, quasi in diretta, insomma, senza entrare in internet e scrivere un articolo, insomma, ok, andiamo a vedere, andiamo a vedere, sono curioso, andiamo a vedere se la foto che ho appena scattato è già stata pubblicata, andiamo sulla nostra pagina dove vengono pubblicati gli articoli, eccola qui, la foto che ho appena scattato con il mio cellulare è stata pubblicata come articolo, l'ho fatta al contrario, scusate, ecco qui, questo era tutto per oggi, vi ringrazio per l'ascolto, se avete critiche fatele pure, vi raccomando, iscrivetevi al mio canale, ogni domenica a mezzogiorno ci sarà un nuovo tutorial, vi ringrazio per l'ascolto, alla prossima!